si fa il raffiga mentre faccio la verticale, mentre faccio la verticale, poi dipende dalle mani, quindi tutta l'erba tutta l'erba? come tutta l'erba? ah sotto dici? da sotto a sotto? da sotto all'albero perfetto, via guarda un po' sembri un mostro Mirko è un mostro di intelligenza che te paro? è la luce bellissima